Benvenuti a Scientificamente, il Tg dello spazio e della scienza, un selfie marziano per Curiosity. Neanche il rover della NASA Curiosity ha saputo resistere alla tentazione di scattarsi un selfie. E così il robottino, atterrato sul pianeta rosso il 6 agosto del 2012, ha puntato su di sé Mali, la camera che si trova all'estremità del suo braccio robotico e si è regalato un autoscatto nel sito denominato Big Sky, dove aveva appena raccolto dei campioni di suolo. In realtà non si tratta di una foto singola, sono stati assemblati decine di scatti per comporre l'immagine, così come la vediamo. Naturalmente non è stata la vanità a spingere Curiosity a farsi un selfie, è un espediente che consente agli scienziati di monitorare da terra il suo stato di salute in combinazione con le informazioni che arrivano dai sensori di bordo. Naya, il falco pellegrino a guardia dello spazio. La stazione spagnola di Sebreros, nei dintorni di Madrid, può vantare un guardiano molto particolare. Si chiama Naya ed è il falco pellegrino che, volteggiando intorno alla trekking station, ha convinto gli uccelli a non fare il nido in quella zona. Se questo fosse successo, le attività spaziali ne avrebbero sicuramente risentito. A Sebreros arrivano comunicazioni che percorrono anche 800 milioni di chilometri per raggiungere la terra. Una tecnica che arriva dal Medioevo, quella della falconeria, e che oggi ci permette di avere notizie da missioni come Rosetta e Mars Express. Lisa Pathfinder, vicina al lancio Lisa Pathfinder è arrivata nella base di lancio ESA a Curu, nella Guyana francese. La data fissata per il suo lancio è il 2 dicembre, quando il vettore Vega, giunto alla sua sesta missione, la porterà nello spazio. Il suo è un obiettivo delicato, dovrà mettere alla prova il concetto di rivelazione di onde gravitazionali dallo spazio, dimostrando che è possibile controllare e misurare il movimento di due masse in condizioni di caduta libera. Lisa Pathfinder fa parte del programma europeo Cosmic Vision ed è una missione con una forte partecipazione italiana. È stata infatti l'ASI a realizzare i sensori inerziali, strumenti di alta precisione progettati dall'Università di Trento, con la supervisione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Enselado mostra il suo volto alla sonda Cassini. Era il 2005 quando la sonda Cassini scoprì delle eruzioni di materiale ghiacciato su Enselado. La luna di Saturno è diventata la più promettente del sistema solare per la possibilità di ospitare un ambiente favorevole alla vita. Lo scorso marzo gli scienziati hanno annunciato di aver trovato prove che l'attività idrotermica può avere luogo sul fondo degli oceani sotterranei della luna. Riusciremo forse a saperne di più grazie agli attesi flyby di questi giorni, incontri ravvicinati in cui la sonda Cassini si abbasserà su Enselado. Il momento più atteso è quello del 28 ottobre, quando la sonda si troverà ad appena 49 km di distanza. La speranza è che questo permetta di scattare immagini utili a capire di più sull'attività degli oceani e sulla sua natura. Calcio parte lo streaming via satellite dei piccoli club. Le grandi squadre di calcio possono contare su efficienti e costosi servizi di trasmissione video che ripropongono le partite su tutti gli schermi dei tifosi. Ma le piccole squadre come si organizzano per far vedere a tutti le loro partite? Via internet e grazie ai satelliti. Sono 60 gli stadi italiani osservati speciali, grazie al supporto dell'Agenzia Spaziale Europea che utilizza nuovi sistemi satellitari basati sull'H-Band. Sono affidabili e poco costosi, flessibili e dalle ottime prestazioni. Le partite vengono così ritrasmesse al pubblico tramite lo streaming via web. Per ora l'attenzione è sui club della Lega Pro, ma chissà che in futuro non si apra la strada per poter seguire in diretta le partite e le competizioni anche di altri sport, finora ignorati dal mainstream. Durante il primo weekend di trasmissione su SportTube si sono collegati in 200.000, sia per seguire la diretta, sia per scaricare la partita e rivederla in un secondo momento. Il progetto Cabalist fa parte del programma Artest dell'ESA, dedicato alla ricerca avanzata nei sistemi di telecomunicazione. L'appuntamento con le news finisce qui, vi lasciamo come di consueto allo spazio dedicato all'approfondimento. Un tour da nord a sud per raccontare a studenti appassionati di spazio la missione futura. Da Trento a Napoli, passando per Milano, Bologna e Roma, Samantha Cristoforetti ha incontrato migliaia di persone che hanno ascoltato direttamente da lei, la donna di record, l'avventura di quei 200 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Cristoforetti non ha mai nascosto di amare questo aspetto del suo mestiere. La divulgazione è importante ed è un aspetto che aveva portato avanti anche a 400 km da terra, da dove aggiornava quotidianamente il diario di bordo del sito avamposto 42. Vestita nella sua divisa blu come i suoi due colleghi, Terry Verz e Anton Shkaplerov, Samantha ha raccontato curiosità e aneddoti dei sei mesi passati nello spazio, aiutata dalle tante foto mostrate a un pubblico sempre eterogeneo. E' partita da quando, legati stretti come dei salami, sono stati lanciati nello spazio, dove sono arrivati con un viaggio di soli otto minuti e hanno finalmente cominciato a provare la sensazione bellissima di fluttuare. E' sempre lei a raccontare come è strutturato il più grande laboratorio mai costruito nello spazio, quella stazione spaziale internazionale da lei da sempre definita l'ultimo avamposto umano. A me piace chiamarlo l'avamposto dell'umanità nello spazio. Ed è davvero un grande stato e continua ad essere un grande sforzo internazionale, si chiama Stazione Spaziale Internazionale perché è il prodotto di un lavoro, di una cooperazione di tanti paesi e tante agenzie. Naturalmente gli Stati Uniti e la Russia sono i due partner più forti, il partner principale, ma c'è un grande contributo dell'Agenzia Spaziale Europea, dell'Agenzia Spaziale Italiana, sia attraverso la partnership europea che attraverso partnership dirette con la NASA, i giapponesi, i canadesi e quindi davvero sono... E sicuramente senza il minimo dubbio è l'opera ingegneristica proprio tecnica più ambiziosa, più complessa mai portata a termine dall'umanità. Per darvi un'idea, l'avrete sentito forse dire spesso, le dimensioni sono grossomoro quelle di un campo da calcio. E questa è la vista dalla finestra, che insomma pure non è male, devo dire, non so a voi che si pensate. Quelli che vedete qui davanti sono dei tipici moduli della parte non drussa della stazione spaziale, sono fatti così, sono dei moduli cilindrici pressurizzati, quelli che contengono l'aria, quindi tutte le foto che vedete degli astronauti che lavorano dentro la stazione spaziale sono dentro a quei moduli. E a fare questi moduli siamo molto bravi, quindi fare la maggior parte dei moduli non drussi della stazione spaziale sono stati fatti proprio in Italia, a Torino, quindi sono una cosa che sappiamo fare molto molto bene. Questo è il nostro pezzo di Europa, nello spazio, è il Laboratorio Columbus, il contributo dell'Agenzia Spaziale Europea della Stazione Spaziale, che è un laboratorio strapieno di apparecchiature scientifiche che permettono di fare ricerca nei vari ambiti che ci interessano in assenza di peso. Io ero, tra le altre cose, responsabile del Laboratorio Columbus come europea, naturalmente è una cosa naturale, e quindi ho passato moltissimo tempo nelle missioni dentro a fare esperimenti. Tante le curiosità del pubblico che negli ultimi due anni ha avuto modo di conoscere meglio lo spazio anche grazie alla missione Volare di Luca Parmitano, una di quelle più ricorrenti e legata al cibo. Anche Astro Samanta ha portato con sé le specialità italiane? In realtà no, Cristoforetti ha preferito dei piatti molto nutrienti e bilanciati anche se non proprio tradizionali. Era la nutrizione uno dei temi guida della sua missione. Luca aveva fatto la scelta di procurarsi con il bonus food alcuni piatti tradizionali della cucina italiana, quindi avevo portato le lasagne, avevo portato la camponata, l'aria siciliana, avevo portato il risotto al pesto, avevo portato il tirano su, e quindi naturalmente questi sono piatti che sono andati assolutamente a Roma. Io ho fatto una scelta un pochino diversa, invece che c'era dei piatti della tradizione, ho elaborato con uno chef e con un nutrizionista dei piatti unici, dei piatti completi, che combinassero il fatto di essere buoni e messi insieme con un certo modo, ma proprio anche di essere molto molto bilanciati da un punto di vista nutrizionale. Cioè volevo sfruttare questo bonus food, non tanto per un richiamo alla tradizione culinaria, ma proprio perché fossero un'occasione di avere dei piatti già pronti, dei piatti unici, che sapevo che, insomma, avranno fatti bene dal punto di vista nutrizionale, come le verdure supportate dal punto di vista della salute. Quindi piatti fatti con una combinazione di proteine di un certo tipo, proteine sane, carboidrati di un certo tipo, sani, e una dose sufficiente, insomma, di verdure. Quindi ho fatto una scelta un po' diversa. Sono andati un po' meno a Roma, non lo so. Il tour dei pre-astronauti li ha portati a spostarsi sempre a bordo di Frecciarossa, grazie alla collaborazione con il gruppo FS italiane. I luoghi degli affollatissimi incontri sono stati il Museo della Scienza di Trento, città adottiva di Astro Samanta, il Museo della Scienza della Tecnica Leonardo da Vinci e il Civico Planetario di Milano, dove etapa obbligata sarà quella di Expo, e a Bologna il tour ha riempito l'Aulamagna di Santa Lucia, mentre a Roma l'appuntamento era al Teatro Olimpico. Infine, l'incontro di Napoli a Scampia e la visita al Museo Ferroviario di Pietrarza. Grazie a tutti!